Io sono sicuramente una creativa, una scienziata e anche un'esploratrice. Sono autrice, illustratrice e passo tantissimo tempo in montagna, quindi grande passane per l'alpinismo e per varie forme del movimento in generale. Poi le scienze mi hanno sempre chiamato l'attenzione, anche la filosofia, il pensiero e comunque lo studio della natura in vari sensi. Lavoro trasformando quello che sono concetti complessi, anche scientifici, in racconti accessibili anche ai non professionisti. La mia arte nasce tantissimo sicuramente dalla natura. Mio papà ha sempre portato me e mia sorella a esplorare le cime, le rocce e quant'altro. Il mio rapporto con la montagna è innanzitutto una vera e propria relazione. Poi è grande passione e imprevista meraviglia. Grazie per la visione! Grazie a tutti.